Adesso prendiamo l'oggetto che è stato ricoperto di cristallina e lo mettiamo nel forno, distanziandolo con questi piedini. Quindi prendiamo un distanziatore in modo che non tocchi sul fondo, si mette nel forno, facendo attenzione a che non tocchi lungo i bordi, si chiude. E poi si accende. Ah, quindi il forno nemmeno si chiude, si appoggia solamente il coperchio e poi si alza. E quindi questo adesso andrà automaticamente, perché questo è un timer, noi sappiamo che 2 che significa. Adesso io, diciamo, a 2 è un tempo di... Allora, il forno conviene che le prime 2-3 ore salga lentamente a temperatura, io lo metto su 2. E la temperatura invece dove sta scritto? Qui, 9,80 circa. Va benissimo.